Qual è l'ingrediente segreto per riuscire a essere costanti con l'attività fisica? Qual è la via più efficace non solo per cambiare la nostra routine, ma anche per mantenerla poi stabile nel tempo? Cosa pensereste se vi dicessi che esiste effettivamente una condizione ideale per costruire una motivazione inossidabile e continuativa? Bene, oggi vi parlo proprio di questo, sicuro di affrontare un tema molto importante nella vita di ogni persona, perlomeno in questo periodo storico. Iniziare a fare attività fisica in maniera efficace, strategica e soprattutto a non mollare più. Se mi seguite sapete che il mio riferimento teorico per sostenere le persone verso il cambiamento è il colloquio motivazionale, che è una tecnica che noi psichiatri usiamo molto nel campo delle dipendenze e in generale i medici la usano nel campo della lifestyle medicine per favorire lo spostamento da comportamenti d'abuso o da cattive abitudini poco salutari verso routine migliori e più salutari in un'ottica di prevenzione, d'accordo? Ma oggi vi voglio parlare, come vi ho detto poco fa, di un ingrediente segreto, di quella condizione che senza dubbio permette di potenziare ulteriormente ogni spinta al cambiamento. Di che cosa parlo? Beh, molto semplice. Sto parlando del gruppo, dell'esperienza del gruppo. Dovete sapere che come medico che si è sempre occupato di neuroscienze e di lifestyle ho avuto modo di capire direttamente sul campo la potenza del lavoro di gruppo, sia che si pare di sostenere una persona che deve interrompere una dipendenza, quindi qualcosa di molto grosso, oppure anche nel motivare un paziente a modificare in maniera strategica il suo stile di vita, che per carità è comunque una cosa importante perché avrà a che fare con la prevenzione. O anche più semplicemente, no, per far arrivare in maniera più efficace, che ne so, delle informazioni a dei familiari o a dei pazienti quando si insegnano delle cose connesse a una patologia, la cosiddetta psicoeducazione. Beh, il gruppo è realmente un ingrediente magico che può potenziare qualsiasi tecnica psicoterapeutica o di coaching nell'ottica di un cambiamento, di un cambiamento del nostro stile di vita. Uno dei concetti fondamentali della psicologia è senza dubbio che l'essere umano è un animale sociale. Le nostre abitudini, comportamenti, persino i nostri stati d'animo sono fortemente influenzati dalle persone che ci circondano. Questo principio sta proprio alla base dell'efficacia, del coaching di gruppo, no, per mantenere, ad esempio, in questo caso parliamo della costanza nell'attività fisica, che è un problema assolutamente generale in questo momento storico, perché ogni stimolo ambientale ci spinge verso l'inattività. E invece sappiamo che una costante e regolare, efficace attività fisica sta veramente alla base del nostro benessere, della prevenzione di patologie e di una vita lunga, una vita lunga e appagante. E quindi, in particolare, nell'ottimizzazione dello stile di vita, in particolare per il pilastro specifico dell'attività fisica, un coaching di gruppo permette di accelerare molto il percorso che va dalla motivazione iniziale al consolidamento di una routine quotidiana. Ricordiamoci che la motivazione è volatile, è ariosa, mentre invece poi il succo è arrivare a una routine che sia sostenibile per lungo tempo. Il potere del gruppo nel mantenere la costanza nell'attività fisica è radicato proprio nella natura sociale, quindi, dell'essere umano. Le nostre abitudini, comportamenti, gli stati d'animo sono fortemente influenzati, influenzabili dalle persone che ci circondano. Questo principio sta proprio alla base dell'efficacia del coaching di gruppo nel promuovere una routine, il consolidamento di una routine di esercizio fisico stabile e duraturo. Numerosissimi studi hanno dimostrato questo, ovvero che il supporto sociale è cruciale per mantenere abitudini salutari, per creare routine salutari della nostra vita. Abbiamo ricerche che hanno evidenziato come le persone che partecipano a programmi di esercizio fisico in gruppo abbiano effettivamente una maggiore, una molto maggiore probabilità di mantenere la loro routine rispetto a chi si allena da solo. Questo fenomeno può essere spiegato attraverso tantissimi meccanismi psicologici e neurobiologici. In realtà le cose poi sono anche semplicemente comprensibili a chiunque, intimamente le conosciamo quasi già. Ad esempio quando ci si allena in un gruppo si crea un senso di responsabilità reciproca, chiamiamola, no? Qualche cosa che è potente perché noi in qualche maniera dobbiamo un po' rendere conto e stare connessi con gli altri. Ma non solo, il gruppo fornisce anche un ambiente in cui condividere le proprie difficoltà, ma anche i successi, no? Riducendo così banalmente la sensazione di isolamento. Il coaching di gruppo sfrutta anche il potere della coesione sociale, di quella che si chiama coesione sociale. Infine il supporto emotivo ricevuto da tutti i membri del gruppo può davvero aiutare a superare momenti di bassa motivazione o frustrazione. E queste sono tutte cose facilmente comprensibili che poi una volta sperimentate sulla propria pelle all'interno di un gruppo, ad esempio per l'attività fisica, ci si rende conto davvero della loro potenza. Quindi in sintesi l'ingrediente segreto per riuscire a essere costanti con l'attività fisica risiede anche e in alcuni casi soprattutto nel potere del gruppo. Per questo sempre di più si tende a includere questi elementi, gli elementi gruppali, in tutti i programmi di cambiamento connessi al lifestyle. E ovviamente come Lifeology, io, Gennaro, Marco, stiamo facendo anche noi qualcosa del genere in maniera molto determinata. Non stiamo veramente focalizzandoci sulla creazione di percorsi di cambiamento basati sul gruppo. Ci siamo resi conto, ad esempio, della prima edizione di Move Motivation che è andata davvero bene. I risultati ottenuti dalle persone che abbiamo coinvolto in questo primo percorso sono stati davvero ottimi. Ci hanno reso realmente orgogliosi sia di noi stessi che di loro. È stata veramente una bella esperienza. Vuoi trovare la motivazione a fare attività fisica con un coaching di gruppo e con le tecniche di motivazione e di cambiamento mie e di Gennaro Romagnoli? Bene, allora ti consiglio di dare subito un'occhiata a Move Motivation, la sfida di 30 giorni che ha lo scopo di farti creare una routine di esercizio fisico efficace e stabile nel tempo. Vai subito a informarti e preparati a sfruttare la potenza del gruppo per il tuo cambiamento radicale. Il link lo trovi qui sotto in descrizione oppure puoi anche cliccare qui, da qualche parte, credo.